Eccoci qui ragazzi, siamo qui per la seconda sfida tra i team Ci sarà Alias come al solito, il capo del suo team E Shane e Saffo, che sono del mio team, sfideranno Cyrus e Siron del team di Alias Vediamo chi sarà il vincitore Ragazzi, se volete vedere l'1v1 tra me e Alias, 10.000 mi piace Noi ci vediamo nella sfida Vediamo chi vincerà allora Ok Vincerà il più forte ovviamente Sapphire e Shane Sai, sai, adesso non piccoliamo di troppo Vedremo alla fine, vedremo alla fine Vai entriamo Vai Il primo che entra il pisellino Oh Siron No Vai, sei pronto a vedere i tuoi perdere? Scusa, non parlo il perdente Sei pronto a vedere i tuoi perdere? Hanno già iniziato? Che cavolo? Che stai aspettando Siron? Oh, si è preso una bella hit Siron Guarda com'è più veloce Shane No, è Saffo quello O è Shane? Ok, Shane da una parte è Saffo dall'altra Guarda com'è Edita Uh, ha preso una bella hit però Impressione No, no, io non ho visto nessuno spam Ho visto degli edit super forti Super forti Va bene Hai vinto una volta per fortuna Ma questa volta non riuscirai a vincere Sì, per fortuna E li abbiamo squagliati, dai Era una pessima giornata per il team Poi è facile giocare con i giocatori di Diego Sì, sì Scusa, un po' di mal di gola Oh, cavoli Ok, vediamo come gioca il tuo altro player Ok, Cyrus Uh, ha preso una bella hit Non so se da Shane o da Saffo Ah, 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 ah Fanno pressione con la R Intanto Sairon ha preso un sacco di hit Non hanno più cure Uh, anche Cyrus Guarda quante ne prendono Oh, sono vicinissimi No, Saffo 83, no Sì, sì, sì No, no, no Bravo Shane, fai pressione 66 No A terra No A terra Ha ucciso Saffo e manca solo Shane No, un altro hit No, no No Cavolo Che azione era Che azione era Salto, sparo Destro in faccia Squagliato Sairon Devono prima contrastare Sairon Troppo facile Troppo facile È tutta fortuna Vi ricordo ragazzi Che se utilizzate il codice SHIKO In supporto a un creatore su Fortnite E ci taggate in una qualsiasi storia In cui shoppate Qualsiasi cosa nello shop Noi non solo riposteremo la storia Ma in più ragazzi Risponderemo ai direct Tutti i giorni Così potremo parlare insieme Cavolo Troppo facile Vediamo round 2 Sairon ha già preso tutta la parte Della Mappa Dei Team di Alias Ok ha preso una bella hit Bellissima hit 70 da parte di Saffo Bello Bellissimo Bellissimo Guardate gli editi di Shane ragazzi Eh Fa niente Può editare quanto vuole Ma lui ha masso il muro Quindi Cavoli Si è già curato Però No 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 Ha preso una brutta hit Saffo Sairon ha preso Oh Vai Saffo Adesso sono 2 contro 1 Saffo Sairon rimane con 60 di vita Che ne pensi Alias Eh Eh questa è stata una bella partita Dai Questa è stata una bella partita Vediamo come andrà a finire Adesso però non è detta l'ultima Oh cavolo Oh 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 Che succede? Oh 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 Ma quante hit fa? Dai non è possibile Oh no 100 no No non è possibile Che vinci con 26 di vita No 130 No dai spara No raga non ci credo Non ci credo Se vinci in solo contro 2 È sconfitta Oh Hanno rischiato Se la sono sudata Mamma mia Quante facce Avete sudato Avete ragazzi qua Un gioco da ragazzi Per me Dai 2 contro 1 Avete sudato Non siete a livello di Saffo Per rimanere in tema Ok ragazzi Terzo fight Sono 1 a 1 Attenzione Saffo che fa 26 Vediamo Saffo sta pushando Intanto Shane fa un po' di pressione Oh 32 Ok Stanno facendo il giro Oh Si è preso una hit Non so chi dei due Atterrato Siron Rimane solo Sairus ragazzi Dai che facciamo il 2 a 1 Oh Bella hit da parte di Sairus Mamma mia Mamma mia Veramente Oh La presa è Saffo questa Rimane con 70 di vita Stica la presa Raga sono molto equilibrate le squadre Mi sto divertendo tantissimo Attenzione Attenzione Saffo non riesce Non riesce a A evitare Vediamo Oh Secondo me è riuscito Mamma mia Ma è facile Ma che è Ma 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 Hai un problema sull'edit La prossima volta La prossima volta Luke Dai mi deve stare decente Almeno Dai Ma Sto allenandovi qua Riscaldamento veramente 2 a 1 per gli SJ Attenzione Oh 109 Subito Raga Saffo è un fire Ok Bravo Ha finito il compagno Così non posso non restarlo Ma in 2v2 Praticamente impossibile Sare Oh Bravo È stato bravo Qui lo ammetto Bellissima hit Vediamo Saffo che fa pressione Oh 3 a 1 Ma che sei 3 a 1 Prendo il sole Prendo il sole Qua Che facile Ma chi è preso Non è che sei arrivato in secondo nella World Cup Nella Gillette Bomber Cup Allora sei forte Ti posso sicurare che Siron ti distrugge adesso Vediamo Caricare un pochino Vediamo State facendo un po' di pressione Uh Qui Ok Uh Un po' di pressione la stanno facendo Ragazzi Vediamo Sono tutti vicini Sia Shane che Saffo Ragazzi Il gioco di squadra nelle 2v2 è importantissimo Oh 33 Uh Bella mira 38 Oh oh Saffo Saffo in mezzo ai nemici Non stanno giocando di squadra No Shane torna da Saffo Shane torna da Saffo Bravo Belli edit Qua No Sì No 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 Saffo ti prego Bello 100 E una terra E 130 Raga Saffo è un mostro No ha recuperato tutta la vita Non ci credo Guardalo Dai Saffo Non ci credo 1v1 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 Dai 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 Saffo Uh Bella hit Mi sa che è Cyrus eh Non so se No è Siron Ok Siron è Siron No è Cyrus È Cyrus Bellissima hit Da parte di entrambi Quindi abbiamo La bella mira assistita Del pad Eh sì No Ha recuperato vita Ok Aia Aia Dai Saffo Fagli un bel mongrel Bello No 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 Dai Dai un bel 4 a 1 Un bel 4 a 1 Che poi c'è la bella Dai Saffo No 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 Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Dai 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 Sono bellissimi questi 2v2 raga 10.000 mi piace Mi raccomando Aiaiaiaia La vedo un po' dura eh Che vinci Ehm Hanno avuto soltanto fortuna fino adesso Uuuuh Ho 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 Hai visto che muta fatto Ah 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 Grande Saffo È molto dura raga Se ce la fa Saffo Gli porto Una statua giuro Oh Voglio riflessare Bello Bello 62 Oh Oh No Grande Sairu 3 a 2 Quanto camper Ok ragazzi siamo 3 a 2 Vediamo come finisce lo scontro Ogni tanto dobbiamo riavviare Quindi vedete 0 kill Perché per vedere entrambe le parti Dobbiamo riavviare le partite Però Sono sicuro che questa volta Non sarà un 3 a 0 Come la volta scorsa Siamo 3 a 2 per ora Dai Sairu Dai Sairu Ti devo vedere bello cattivo Sairu 60 per Sairu Ok vedo Shank è aggressivo contro Cyrus Saffo contro Sairu 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 ha preso 100 di hit Si sta curando ora Saffo aspetta un attimo a pushare Ok Bellissima Stanno prendendo L Sairu sta spammando Bellissima la scala di Saffo 40 di vita Sairu ha 40 di vita E Saffo lo manda a terra Ragazzi Non gli ha resettato il muro Non gli ha resettato il muro Che cosa mangi a colazione Perché è un mostro Bellissimo Edit Da parte di Saffo ancora 2 v 1 Uh Sairu fa un bel bug ragazzi Sono in 2 v 1 Lo stanno spammando Rimangono 27 di vita Per il 4 a 2 Eccolo lì Shane l'ha beccato Bellissimo Edit di Shane Uh Non ho capito Chi ha vinto Che sonno Luke Che sonno Luke Mamma mia Ma che sei No 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 4 a 2 Qua Mamma mia Luke Sto da dormire io Sai L'ultima partita ragazzi Forza 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 Ok Sairun questa volta è andato da Shane Ho paura che sia un po' più forte Sairun di Shane Quindi l'abbia pushato Molto bene Si son divisi bene questa volta Vediamo un po' come si comporta Shane Sairun sta molto attento con gli edit Vediamo intanto Sairus Contro il Saffo Ha preso una hit di poco Forza ragazzi Per l'onore E la gloria Ballo E intanto però Sairun si è preso una bella hit Io lo dico Oh cavolo Saffo dai Rimane Sairun contro 2 Per la bella Ragazzi Rimane con 125 di vita Non ci credo raga Non ci credo Boxfight contro il team di Alias Mamma mia Oh mio Dio In realtà Ciro è in prestito dal team di Meticcio Quindi Anche Saffo è in prestito Ovvero Io ho preso in prestito perché tu non hai preso uno in prestito Giusto giusto Entrambi Vediamo che gli mettono pressione Se riesce a vincere la questa Veramente tanto di cappello a Sairun ragazzi Sono stati tutti comunque bravissimi 40 Shane Shane non è riuscito a hitarlo Saffo lo edita 25 di vita Lo picconano Lo picconano L'han picconato Chi è che picconava scusa Non ci credo Gli avrà dato qualche vpn qualcosa Ma stavolta le macro non hanno Grazie mille per la vacanza comunque Grazie mille Grazie mille per la vacanza Per ora noi non possiamo Salutarvi e ringraziarvi perché noi come so Ci mettiamo il prossimo video ragazzi salutate Ciao 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 ragazzi mi raccomando Che tanto arriverà la bella Si la bella Si la bella Anche quei capelli azzurri Come non lo serve